Praticamente è da più di un mese che i lavoratori stagionali dell'ESA hanno ricevuto una sospensione e da un mese non c'è nessuna risposta positiva in merito a questo. Cioè praticamente il paradosso qual è? Che se da un lato la politica ha dato le disponibilità come risorse finanziarie per la continuazione della campagna dall'altro lato questa sospensione non è per nessun motivo considerata accettabile. Ora noi quello che chiediamo è il ripristino immediatamente e la revoca di questa sospensione. L'immediato inserimento delle giornate lavorative che restano fino al 31 dicembre e nello stesso tempo, dato che ci date questa opportunità, anche un invito che facciamo alla politica affinché una volta per tutte si venga sistemata una volta per tutte questa situazione. Cioè qui noi stiamo parlando di gente che da 30 anni vive una vita da precario. Vi lascio immaginare in che contesto si può vivere. Un contesto angoscioso, un contesto di precarietà e di insicurezza giornaliere e continua. Noi continueremo questa protesta fino a quando non ci sarà una risposta certa e sicura che vada verso il versante della stabilizzazione del ripristino della dignità lavorativa dei lavoratori stessi.